eh 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 guardi so, due stronzi che scendono con me ah ok, pensavo di raccontare bestemmia da censura nooo no no no, non posso non posso non posso bestemmiare so c'è so c'è non mi farei questo no, non c'entra, bestemmi premetteva tranquillo ci penso io cioè c'è manco un sasso non tenerti tutto questo dentro figliuolo non posso appunto, non vuoi, ormai mi diseredano vabbè fammi una teleca, ce la penso io vedele, guarda dinne tante, più che puoi ci penso io, è un po' una volta e spargo un po' campo là quando serve mi ricordo ce ne metto una più in mezzo pure per te raccarica sto coso dai 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 bastardi sto concedendo a sparare addosso subito subito sto, tirate due ciotate faccia da cazzo senti come scarica aperta un muo male, l'umpa l'umpa morto fatta da un culo, merda a te è piaciuta questa faccia di cazzo amari amico su me fa eccolo che hai trovato? che figlio di troia no si si fa un figlio di troia no no no, rientra dentro sei scemo oh, io vado fa ste cose, sta la bombardiamo che fai chi app esci così, esci con ombrello comunque io ho messo cosa ho messo gente che sta vicino si è cappottato no porca vacca non te faccio entrare porca mita te faccio morire bombardato non lo so come si ha salvato eh non me lo chiede non lo voglio sapere non lo so bastardo mi ha sparato una gomma non lo so no vaffanculo sono morto usb e quindi potrei in teoria utilizzarla shhh non 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 ho sentito uno che a mi non 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 ah ah attaccate il cazzo l'ho sentito brutto arrivo subito no? si si no 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 che sei scemo eh ma che no mi si era messo lì pensavo che ne avevo sentito ecco jesù ecco 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 eh il vaffanculo l'ho visto e l'ho spi- ho sparato ma non l'ho ammazzato questo c'ho l'ottopere sicuro stiamo scopertissimi o ci abbarichiamo a sta casa a sud ovest no so io scusa vaffanculo ho buttato un colpo così si sta a spara a destra mi senti? a 70 70 70 70 di odio della collinetta a 70 mi è sceso strisciava si 60 sta lì si è spostato a 60 60 60 si ma è l'unica cosa tipo di vostro che è adesso nel palazzo rimani nel palazzo non ti muovi da la non lo vedo non lo vedo non lo vedo adesso è proprio ma dimmi i gradi 70 gradi i miei e no no sono quali per tutti ed è sceso dalla collina verso il palazzo in questo momento in questo momento sta a girare non vuole girare il palazzo però sta lontano ancora sta bene verso il palazzo tuo? no perchè l'ha sceso lateralmente però io se lui gira queste collinette sono depresse può darsi sicure che io non lo vedo e si fa più giro intanto sei appicinato sento stare a sinistra si stanno a minestra generale si niente nico questo si è adeguato si vieni tu? si si tu stai bene lì ma si si riprende po' un potere si riprende un tempo Vieni scendi Andiamo Non lo so andiamo lì giù Andiamo a 205 Sì ma che palle Però Nicò Lei ne taghi sempre Sì stanno sparando a destra Vai Sparano di fronte a noi Vieni da la roccia Pia no Ciao Non è spartico Eccolo Aspetti spara A posto l'ho tirato giù Però è solo atterrato C'è pure il compagno suo vicino No E baffanculo però cazzo E' che il compagno su E' che si dice Sono sanguinfughe Grazie a tutti. 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 e... Grazie a tutti.